allora guarda che era successo questa ho notato che questa molettina della rotta aveva un gambettino qui rotto allora l'ho levata io ho levato un giro e l'ho fatto questa maniera perché mi sta bene così l'ho rimessa a posto l'ho inserita dentro vedi qua bene poi prendiamo il nostro pezzo famoso che non sapeva come metterlo lo inserisci dentro poi avevo notato che qui c'è una parte che sta benissimo da qui dentro quindi lo inserisci dentro lo rigiri invece di lasciarlo così come si diceva come si torna non va bene allora tu lo metto prendi porti in cima e lo metti qui dentro in questo va questo alloggio qui qui c'è un alloggio qua poi avevo notato che qui era un po consumata quindi qui sta bene la molla la nostra molla famosa no allora io prendo questa molla lo prendo e lo butto lì dentro ora me sta bene allora chiudo la serratura provo funziona chiudo funziona ok ora prendo il pezzo così torna bene così ok faccio attenzione a questo perno a questo lo metto torna bene poi guardo qua per netto che lo vedo qua allora prendo mi rimane solo questo qua c'è un perno che l'avevo gli ho dato dei colpi tanta per poter levarlo e ora lo rimetto insomma lo batto dopo un pochino meglio quello che entra qui dentro e ora facciamo la prova questa è chiusa ok chiusa con questo vediamo quell'altro chiuso ok così quell'altro funziona quindi per la colpa della mollettina rotta pagavo 50 euro sull'aliexpress 30 ok questo è tutto ciao grazie